Ragazzi, ma voi lo sapete cos'è il blog della scuola? No, ora ve lo spieghiamo noi, seguiteci nel nostro bellissimo percorso. Nel nostro blog gli studenti hanno la possibilità di scrivere articoli su tantissimi argomenti, dall'attualità all'arte, dallo sport alla letteratura e molto altro ancora. In redazione passiamo del tempo insieme, cercando argomenti e notizie per i nostri lavori, sviluppando ulteriormente le nostre conoscenze. Infatti il blog è il luogo più adatto per chi vuole fare amicizia e trovare persone con le sue stesse passioni, come ad esempio la scrittura o la fotografia. E voi cosa aspettate a farci sentire la vostra voce? Se hai in mente un articolo interessante, inviaccelo e noi lo pubblicheremo. Come trovarci? Potete scrivere alla mail lavocedimatilde-liceocanossa.edo.it oppure andare sul sito www.lavocedimatilde.it Ah, e ricordatevi che vale come PCTO! Vi aspettiamo!